Impegna tutta la sua vita. Ema Kandra, 1088-1172, mistico e poeta indiano, nato nella regione del Gujarat. Impegna tutta la sua vita nella divulgazione della fede jainista ed arriva a convertire il re del Gujarat, Kumara Pala. Insieme a molte altre opere, tra il 1160 e il 1162, compone un poema in dieci libri in cui sono narrate le vite di 63 santi jainisti. Verso la fine della vita, redige un'esposizione della filosofia jainista e dei suoi metodi ascetici. Commento La mente crede nella religione. La religione crea il misticismo. Il misticismo sente lo spirito.